Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Il regista Toscano e Teresa Magni fanno sul serio, così coltivano il loro amore lontano da occhi indiscreti Leonardo Pieraccioni, dopo aver visto naufragare il matrimonio con Laura Torrisi, ha ritrovato pace e amore con Teresa Magni, donna cui è legato da parecchio tempo, seppur soltanto nei mesi scorsi la coppia è uscita allo scoperto La conoscenza dei due risale a circa tre anni e mezzo fa, oggi il rapporto è solido e vissuto con molto riservo Teresa ha circa 40 anni, è toscana, è bellissima e non fa parte del mondo dello spettacolo Di professione hair stylist, ha una figlia, Anna, avuta da una precedente relazione Anche il regista, come è noto, è già padre, la gioia genitoriale la condivisa con l'ex moglie con la quale ha avuto, 11 anni fa, ha accolto Martina Secondo i ben informati Leonardo e Teresa non convivono, ma è fuori di dubbio che il sentimento tra i due sia molto forte A febbraio scorso la Magni ha pubblicato su suoi profili social una fotografia assieme all'attore, impreziosendola con un cuore rosso Così la coppia è uscita definitivamente allo scoperto La donna ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni ai fan, lasciando intendere quanto l'intesa sia forte Ad esempio ha ringraziato calorosamente un utente che affermava di adorare Pieraccioni perché capace di innamorarsi di donne semplici Un altro fan ha citato il piccolo principe, scrivendole, due cose ci salvano nella vita, amare e ridere Se ne avete una va bene Se le avete tutte e due siete invincibili Siamo invincibili, grazie La replica tripudiante d'amore della Magni Insomma, la 40enne ha confermato tutto ciò che si pensava Vale a dire che Pieraccioni non è solo un uomo da altri tempi e un simpaticone innanzi alle telecamere Ma lo è anche nel privato Altrimenti detto non è affatto una persona che si è montata la testa con il successo Continua a fare ciò che ristora l'anima nel quotidiano, appunto amare e ridere, con semplicità Se Leonardo Pieraccioni è felice con al fianco Teresa, attualmente è invece single Laura Torrisi, l'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello e di Amici Celebrities, poco più di un anno fa, ha rotto con il pilota Luca Betti Per quel che riguarda il rapporto con il regista toscano, è ottimo Sia lei sia Leonardo, nonostante la love story non abbia funzionato, sono rimasti amici e continuano a rimare nella stessa direzione per il bene della figlia Martina Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao